ciao amici voi come state qui sono iniziati i primi freddi un po in tutta italia almeno così dice il meteo c'è qualche fortunato invece che si gode ancora il bel tempo o fa freddo anche da voi scrivetemelo nei commenti perché sono curiosa lo sapete fa un freddo squaletto dice che con questo freddo polare gli toccherà diventare un squalo bianco quando arriva la stagione fredda a forza di vedere pubblicità di medicinali e sentire che le persone si ammalano ci viene da pensare che ammalarsi sia normale non è vero perché non lo è per i bambini sì perché devono formare il loro sistema immunitario ma per gli adulti no se ci pensate i nostri nonni o genitori se avete qualche primavera in più come me loro si ammalavano molto poco allora voglio vedere come non ammalarsi quasi mai ora voglio darvi subito tre trucchetti pratici che vi faranno ammalare molto meno perché come dico sempre la prima causa dei malanni stagionali sono le abitudini dannose nello stile di vita gli errori di comportamento allora vediamo cosa fare se vi piacciono questi consigli per ammalarvi di meno datemi in cambio un bel mi piace tanti mi piace tanti nuovi consigli trucchetto uno usare sempre il berretto di lana cappellino cuffia dicono in emilia romagna o come lo chiamate nella vostra zona la testa non è solo un insieme di ossa dure con dei capelli contiene il cervello che deve rimanere al caldo se la testa si raffredda tutto il corpo deve consumare energie per scaldarla e si indebolisce e poi con la testa fredda è più facile accumulare muco nei seni paranasali uguale sinusite eccoci trucchetto 2 usare la sciarpa scusa che novità fammi finire la sciarpa non serve solo a riparare la gola ma deve coprire anche la bocca così fa da barriera all'aria che respiriamo e riscalda un po l'aria fredda respirare aria troppo fredda stressa le vie respiratorie i polmoni raffredda il corpo intero e ammalarsi diventa più facile trucchetto numero 3 soffiarsi il naso regolarmente è a fondo soffia soffia questo è importante soprattutto per i bambini sappiamo tutti che per loro soffiarsi il naso è una perdita di tempo invece abituiamo noi stessi e loro a soffiare il naso a fondo finché sentiamo di esserci liberati il più possibile quindi alla sera e la mattina vai con i fazzolettini di carta altrimenti il muco si accumula e intasa tutto avete visto come sono facili e il modo migliore per vederli tutti è iscriversi al canale è facile e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vederli adesso condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social fateli iscrivere facciamo diventare grande il canale insieme per oggi è tutto e io vi aspetto al prossimo video nel frattempo sempre trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao